Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano Alburni a pochi giorni dalla scadenza del mandato di commissario per Troiano manca il nome del nuovo presidente del Parco Sant'Arsenio 4 premio Campanelli stamane la conferenza stampa di presentazione Montesano ieri la conclusione del campo estivo della cooperativa futura organizzata con il comune di Montesano Sassano alla pasticceria Tropiano festa di saluti per gli italo-americani Calcio in eccellenza Valdiano K.O. Esterno in promozione pari per il Sassano Buongiorno bene ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News in primo piano le vicende del lente Parco stanno per scadere i 18 mesi di fase di commissariamento affidate ad Milcare Troiano ma appunto a pochi giorni dalla scadenza del mandato manca ancora la certezza sul nome del suo successore. E ormai questione di giorni anche il terzo mandato da commissario del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni per Milcare Troiano scade. Nei primi giorni di ottobre infatti dovrebbe giungere la nomina del nuovo presidente dopo una fase di commissariamento durata 18 mesi e affidata al presidente uscente. Nulla però trapella di sicuro sul nome del successore alla presidenza. Da più parti giunge il nome di Tommaso Pellegrino sindaco di Sassano come papabile alla guida del parco anche se si tratta al momento soltanto di voci che si susseguono sui diversi quotidiani della provincia salernitana. L'ultimo di questa mattina con la notizia apparsa sul quotidiano le cronache che annunciava come ormai deciso per il presidente della regione Vincenzo De Luca di puntare su Pellegrino per affidargli il compito non facile della presidenza del parco soprattutto in questo periodo dove i malumori non sono pochi. L'unica certezza in merito alla presidenza è che il successore di Troiano avrà sulla sua scrivania già un numero considerevole di pratiche da sbrigare. Partendo dalle iniziative di diversi comitati che chiedono la ridefinizione dei confini del parco ritenendo l'istituzione solo un inutile ente destinato a imporre vincoli senza portare però alcun beneficio sia in termini di promozione del settore turistico, paesaggistico e culturale che economico. Non meno grave poi la questione cinghiali che ormai da nord a sud sta interessando tutte le aree protette dove la caccia è vietata ma dove l'agricoltura ne è prima vittima. Insomma l'agenda è già fitta di impegni anche se ancora non si conosce il nome di colui a cui saranno affidati. Intanto però il Totonomi è attivo da tempo. Tommaso Pellegrino infatti è da molto tempo visto come il possibile nuovo presidente del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Tra i papabili però è anche spuntato recentemente il nome del sindaco di Roscinio Pino Palmieri eletto recentemente alla carica di presidente della comunità montana degli Alburni l'area che maggiormente si mostra critica nei confronti dell'istituzione. La richiesta di riperimetrazione dei confini del parco è partita proprio dai monti Alburni particolarmente interessati dai fenomeni dei cinghiali vacanti e ancor più da Pino Palmieri che insieme a Edoardo Doddato, sindaco di Ottati, hanno dato vita alla costituzione del comitato ai briganti del parco. Tra i più accreditati però come nuovo presidente del parco sembra essere il sindaco di Agropoli Franco Alfieri. A rendere plausibile l'investitura alcune note. In primis il forte legame con il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha chiamato a proporre il nominativo al Ministero dell'Ambiente che dovrà poi ufficializzare o meno il nome proposto. Alfieri infatti è stato da sempre il primo sostenitore di De Luca alla candidatura come governatore della regione Campania e lo stesso inizialmente candidato come consigliere regionale ma che successivamente è stato costretto anche dallo stesso De Luca al passo indietro per problemi giuridici nel frattempo risolti. Si tratta di ipotesi e nomi manca però l'ufficializzazione con l'ultima parola che spetta sempre e comunque al Ministero dell'Ambiente Gianluca Galletti E cambiamo argomento. Questa mattina a Sant'Artenio presso la Banca Montepruno si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del premio nazionale per la sicurezza Cristian Campanelli organizzato dall'Associazione Life in collaborazione con la Banca Montepruno. Il premio che sarà consegnato sabato prossimo 3 ottobre alle 10.30 presso il Teatro Comunale Amabile di Sant'Artenio. A margine della conferenza stampa abbiamo raccolto le parole di Daniele Campanelli presidente dell'Associazione Life e di Cono Federico responsabile dell'area direzione della Banca Montepruno. Ascoltiamoli. Sì come ben detto questa è la quarta edizione del premio dedicato a mio fratello Cristian. Sono stati quattro anni in cui la sicurezza stradale a livello nazionale ha raggiunto buoni risultati con la riduzione delle morti sulla strada però ancora sono molti e sono tanti soprattutto qui in provincia di Salerno. Basti pensare appunto all'ultimo esodo estivo e i dati di viabilità Italia che hanno dimostrato. Ovviamente c'è da lavorare, c'è molto da lavorare in ambito di sicurezza stradale e parliamo anche da lavorare sia a livello legislativo, mi riferisco a quello che è il reato di omicidio stradale che secondo me c'è bisogno urgente di inserirlo nella nostra legislazione e anche appunto quello di investire maggiormente su quello che è il tema della sicurezza stradale. Il premio appunto tende a valorizzare, a premiare chi si è distinto a livello nazionale in ambito di sicurezza stradale. I premiati di tutti gli anni sono cittadini comuni, sono le forze dell'ordine, sono gli enti, sono persone come tutti noi che in qualche modo danno il proprio contributo quotidiano, spesso invisibile, che nessuno conosce appunto per ridurre questo tragico numero di morti sulle strade. Personalmente considero la viabilità un problema secondario in ambito di sicurezza stradale, sono altre le cause che causano appunto gli incidenti stradali. Ovviamente ci troviamo in un territorio dove la viabilità è al limite, basti pensare alle situazioni che abbiamo ad Oletta, Roscigno, ne potremmo citare decine di situazioni del genere. Ovviamente il Vallo di Diano ha una viabilità ferma a diversi anni fa, il tempo appunto tutto si è modernizzato, anche sono aumentate le automobili sulle strade, quindi il Vallo di Diano dovrebbe investire in una nuova viabilità in qualche modo diretta a quelle che sono le esigenze dei giorni moderni. Un progetto che abbiamo sposato quattro anni fa, costituendo questa associazione con Daniele Campanelli, che rinnova ogni anno questo premio per fare il punto e per dare importanza a tutte le attività fatte per la sicurezza stradale, problema che riguarda ovviamente tutti quanti noi. Sì, avete letto, avete ascoltato, il direttore si è impegnato fortemente in quest'ultimo periodo per sistemare un po' dei problemi, noi oggi lo vedete tutti, sono delle strade che purtroppo non sono facilmente praticabili, fondi delle istituzioni ci sono, non ci sono comunque se ci sono arrivano con ritardo, noi ci mettiamo quello che possiamo fare, ricordo che siamo comunque un'azienda privata che quindi non può in autonomia mettersi a sistemare le strade, però se collaboriamo tutti quanti, quindi con l'associazione che evidenza i problemi e con la buona volontà delle istituzioni che danno le giuste autorizzazioni, possiamo almeno sistemare dei problemi, magari piccoli, che però rendono un po' la guida più agevole. E cambiamo decisamente argomento, ieri grande festa a Trinità di Sala Consilina nella nuova area PIP commerciale dove la Rosciano Distribuzioni ha inaugurato il nuovo stabilimento. L'inaugurazione della nuova e grande sede di Rosciano Distribuzioni a Trinità di Sala Consilina. Mentre nel quotidiano si susseguono notizie di imprese che chiudono e dipendenti che vengono licenziati, ieri a Sala Consilina grande festa per un'attività ultra trentennale che non solo resiste ma che riesce anche ad ampliarsi e a trasferirsi in uno stabilimento ultramoderno. Ieri mattina grande festa presso l'area PIP commerciale di Trinità di Sala Consilina dove Don Gabriele Petrocelli ha inaugurato la nuova struttura della Rosciano Distribuzioni di Michele e Rosetta Rosciano. Un segnale importante per l'intera comunità valdianese che si è stretta intorno alla famiglia Rosciano per festeggiare l'importante traguardo. Il coronamento di un sogno giunto dopo tanti anni di sacrificio e lavoro che ha portato all'ampliamento di un'attività storica di Sala Consilina contribuendo ad assicurare un lavoro a tante persone del territorio e in grado di garantirli un futuro ai giovani. Sono anni di sacrifici che finalmente ci hanno portato a questo avvenimento perché siamo in commercio in questa attività da tantissimi anni per cui i sacrifici sono tanti e finalmente abbiamo realizzato un qualcosa che sicuramente anche i nostri figli contribuiranno a portare avanti. Noi siamo distributori all'ingrosso di prodotti free, abbiamo una rete vendita molto diffusa di agenti. Ho iniziato negli anni 80, facevo il cameriere, poi un'azienda gli serviva un venditore sulla zona e allora ho iniziato così. Poi mano a mano mi sono allargato con uno o due dipendenti, poi man mano mi sono allargato con gli anni prendendo sempre prodotti nuovi e incrementando le vendite e aumentando anche la forza lavoro. L'inaugurazione del nuovo stabilimento della Rusciano Distribuzione, oltre ad essere stato accolto con favore dalla comunità, visto come un segnale di ripresa ma anche come un messaggio importante di determinazione e forza di volontà, ha ricevuto anche il plauso da parte di altre imprese del territorio rappresentate ieri all'inaugurazione dal presidente dell'Associazione Imprenditori Vallo di Diano Valentino Di Brizzi e dall'amministrazione comunale di Sala Consilina con il sindaco Francesco Cavallone in primis. Oggi ha raggiunto il risultato, voglio dire, di sacrifici di una grande vita. La famiglia Rusciano perché al di là dell'amministratore vi è tutta la famiglia che ha sempre lavorato fortemente e con serietà contraddistinguendosi nel settore alimentare. Una bella soddisfazione per la famiglia, una bella soddisfazione per gli imprenditori del Vallo di Diano, una grande soddisfazione per le attività di questo territorio. Anche perché, come si è detto e credo che non sono il primo a dirlo, fare investimenti in un periodo come questo è sinonimo di grande coraggio. L'impresa in generale è in crisi, però significa che hanno le spalle solide, è gente che ha dimostrato di avere una grande serie tra professionale e il tempo ha dato ragione a loro e sicuramente questa sarà la prima tappa di grandi soddisfazioni di questa azienda, di questa famiglia perché se lo merita. Sindaco, quando le attività commerciali crescono è sempre un bene per la città, ma non solo per la città. Sicuramente questo è uno dei motivi di maggiore soddisfazione e orgoglio, lo sviluppo economico del nostro territorio di Sala Consirina. Questa zona PIP commerciale che si è di località Fontanelle a Sala Consirina, le attività commerciali si espandono e per noi è un motivo di grossa soddisfazione. Io faccio i complimenti, gli auguri al signor Rosciano che oggi inaugura questa attività che anche da un punto di vista di impatto estetico è molto bella, ma io mi auguro che possa sempre espandersi da un punto di vista commerciale e possa ampliare quelli che sono propri sui orizzonti commerciali. Andiamo adesso a Montesano sulla Marcellana dove ieri con uno spettacolo teatrale si è concluso il campo estivo dedicato ai bambini e promosso dalla Cooperativa Futura in collaborazione con il Comune. La festa è stata caratterizzata da uno spettacolo teatrale realizzato proprio dai bambini. Si è concluso con uno spettacolo teatrale il campo estivo organizzato dalla Cooperativa Futura preseduta da Angela Sanseviero. I bambini per tutta l'estate sono stati impegnati in attività ludiche e di socializzazione con i responsabili della cooperativa. Ieri sera lo spettacolo di chiusura del campo estivo con i tanti bambini che insieme a Giorgio Lamarca e ai collaboratori della Cooperativa Futura e di teatro in tour hanno portato in Scemna una commedia che ha messo insieme tutte le idee dei bambini. Gli stessi hanno poi interpretato con passione, impegno ma anche tanto divertimento la sceneggiatura da loro stessi ideata e messa insieme dal maestro Lamarca. Le soddisfazioni vengono più con i bambini perché con i bambini percepisci proprio le emozioni. Poi un laboratorio, almeno così come l'abbiamo inteso noi insieme con Angela, era quello di stimolare i bambini nell'utilizzo del corpo, dell'utilizzo della fantasia. Infatti è uno spettacolo interamente scritto da loro. Io ho soltanto avallato quelle che erano le loro richieste, quindi la loro follia. Abbiamo dato una forma alla loro follia ed è uscito fuori uno spettacolo molto molto divertente. L'obiettivo principale del laboratorio teatrale in questo contesto non è tanto presentare uno spettacolo bellissimo quanto creare uno spirito di gruppo, creare una serie di emozioni, stimolare una serie di emozioni dei bambini e niente. Poi a noi non resta altro che essere spettatori di tutto questo. E ne è uscito fuori, almeno credo stasera, uno spettacolo piacevole oltretutto. I ragazzi che hanno partecipato al progetto è free time, proprio il tempo libero. Sono stati 100 bambini del Vallo di Diano. La maggior parte è tra Montesano, Padula, Pertosa, Monte San Giacomo, Sala. Quindi abbiamo avuto tante culture e tante diverse, anche se vicino però non si conoscevano tra di loro. Quindi è stata un'esperienza bella di integrazione. L'abbiamo svolta con tre giornate di mare e due giornate di laboratorio. Sono 15 anni che lo facciamo e c'è sempre un grande successo. Quest'anno è stato possibile, perché è difficile organizzare per budget, economiche, spese o quant'altro. È stato possibile grazie al Comune di Montesano e ci hanno sostenuto le tre BCC. E poi abbiamo avuto degli sponsor privati. A rendere possibile l'iniziativa è stato il Comune di Montesano guidato da Donato Fiore Volentini ed in particolare dal consigliere delegato alle politiche sociali Rosa Campiglia, che ormai da diversi anni appoggia il progetto della cooperativa futura. Visto il tema è ispiratore, fondato su attività di integrazione e di socializzazione, oltre che di apprendimento, attraverso attività che hanno anche cercato di responsabilizzarli. Questo progetto fa parte di un percorso. Noi utilizziamo dei fondi che si chiamano Integrazione dei minori. Già questo lo dice tutto. Questo progetto ha fatto sì che i bambini si conoscessero tra di loro. Si sono integrati anche con bambini extracomunitari, con altre realtà. Ecco perché noi ci crediamo tantissimo come amministrazione. Sono cinque anni che lo facciamo e lo facciamo veramente convinti della cosa. Adesso invece a Padula, dove ieri si è svolta e si è conclusa la seconda edizione del concorso nazionale di poesia e arte organizzato dall'Associazione Nuove Idee. E' il concorso che vuole ricordare padre Minozzi, sacerdote che insieme a padre Giovanni Semeria ha fondato l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, come l'Ofanotrofio della Certosa di Padula e tantissimi altri. Ieri mattina, in occasione anche della decima edizione della manifestazione La Giornata del Ricordo, che si è svolta presso l'Aula Consigliare della Certosa di San Lorenzo, si è svolta anche la cerimonia di premiazione del concorso. Pietro Cusati ha raccolto per noi le parole degli organizzatori e dei protagonisti di questa seconda edizione del concorso. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. che della propria struttura, che sia ancora così, sono più flore, s'aggetto in resa, e non è un proprio terreno, però non si è un beneficio che fa una indietro, è una strada, che è una strada, che è un'acqua, che è un'acqua, che è un'acqua che fa con l'ombra, che fa un'acqua, che fa un'acqua, che fa un'acqua, che fa un'acqua, che fa un'acqua. Anche se non si è che se non si è venire, che si è venuta, che c'è la domanda, ma anche su una domanda che ci sanno, e sono una domanda che non ci sono di costa superiore utilizzare un'impostigna, frare l'abattamento della legge, il venduto non l'azvolgimento di trei ignatori, che siamo alle cose che sono ancora di tempo anche per il mio cliente per l'applicazione di questo ancora. Per il nostro tempo è iniziato. Allora, noi ci siamo all'initare aiuti, però abbiamo i nostri amici, il nostro lavoro di partecipazione, E' un settest fertilità di più sia uno, è un dell'attesa, perché non si sembra al ma l'effetto non si lo ha contato, però non è così. E' una cosa anche, non è così, non è così. Ma è un esempio, non è veramente una cosa che si sta andando alla fine dell'arco e con un'acquista che creava una di conti di quanto riguarda l'articolo, che invece è sempre di fatto che sono computerizzato sulle metri. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'estate va via e molti dei nostri emigranti in America, dopo i mesi trascorsi nella loro terra d'origine, sono rientrate alle loro case. La pasticceria Peccati di Gola sabato sera ha voluto festeggiare l'oro e quanti sono legati anche per semplice passione all'America Latina con una serata di musica, ballo e festa. Presso il piazzale antistante la pasticceria Peccati di Gola e dintorni, la famiglia Tropiano ha organizzato la serata latina con i sapori tipici venezuelani e la musica brasiliana con DJ Black e Cono DJ e il Re del Mambo e con l'animazione di Linda Cris e Ora Loca. Una grande festa per salutare i nostri emigranti e per ricordare ancora una volta il nostro legame con la terra dell'America Latina. Siamo molto contenti perché veramente ce l'abbiamo messa tutta a fare questa bellissima festa con queste stupende ragazze che ho qui a fianco a me. Che dire, sono molto emozionato perché ringraziando a Dio tutte le feste che stiamo organizzando qui nel nostro piazzale Peccati di Gola stanno riuscendo molto bene. C'è tanto lavoro, tanto impegno e grazie a tutti voi che ci sostenete, a tutto il pubblico, a tutte le persone che ci stanno vicino. Volevo ringraziare tutto il mio staff, Vito, la mia famiglia e tutti quanti, veramente grazie di cuore a tutti voi, grazie. Siamo venuti direttamente dal Brasile a portare allegria per tutti e vedo che tutti in quanto partecipano, sì. A me ti piace? A me piace a tutti, sì. Continueranno ancora le feste qua nel piazzale Peccati di Gola. Abbiamo deciso di organizzare questa festa perché molti qua nel Vallo di Diano ci sono molte persone che amano il latino, i paesi latinoamerici. Riccardo e quindi noi abbiamo dato la possibilità di fare questa festa e procedere a tutte queste persone di partecipare qua da noi. Termina qui la prima parte dell'Euno News, a tra poco con la seconda parte. Seconda parte dell'edizione pomeridiana dell'Euno News. Apriamo la ricca pagina sportiva. Ieri sono iniziati i precampionati per gli albiti delle diverse categorie dei dilettanti. Anche la sezione di sala consiglina ha dedicato un'intera giornata a test atletici e corsi di formazione per gli arbitri iscritti alla propria sezione. Il raduno si è svolto allo Stadio Medici di Polla. Gli arbitri di tutta Italia sono impegnati nella preparazione precampionato. Anche gli iscritti della sezione AIA di sala consiglina per l'intera giornata di ieri presso il campo sportivo di Polla si sono ritrovati per i test atletici e per la formazione sul nuovo regolamento arbitrale. La sezione AIA continua a contare un gran numero di iscritti con alcuni dei suoi arbitri che hanno raggiunto importanti traguardi nella direzione di gare e di grandi campionati. Sono ben tre infatti gli arbitri che dirigono le gare di campionato di Lega Pro, ex Serie C, a cui si aggiungono arbitri di campionati di Serie A per il calcio A5. Tra questi anche il presidente Giampiero Caffaro, che ieri insieme a Giuseppe Aumenta, Cristian Ivan, Manuel Robilotta e Massimo Manzolillo, ha seguito e coordinato nei test atletici i giovani arbitri iscritti alla sezione salese. A seguire il lavoro di preparazione, i responsabili del comitato regionale dell'AIA che hanno supervisionato il corretto svolgimento dei test atletici e hanno poi seguito gli arbitri salesi nella lezione di approfondimento del regolamento. In effetti sono delle prove atletiche che servono a garantire poi che l'arbitro abbia una prestazione atletica durante la gara che gli consenta di essere lucido dal primo all'ultimo minuto. Dopo questa prima fase di mezzo allenamento più test atletici i ragazzi sosterranno i quiz tecnici in cui andiamo a verificare se l'arbitro è pronto per dirigere le gare a livello regolamentare, conosce un po' tutte le normative, le regole, il regolamento, le disposizioni che gli vengono date sempre in questo momento di raduno. Dopodiché ci sarà una riunione tecnica tenuta da un componente nazionale del settore tecnico che si occupa dello studio e del nostro regolamento. Darà delle indicazioni sulle novità regolamentari, anche se quest'anno ce ne sono ben poche. Abbiamo arbitri che militano a livello nazionale in campionati importanti, in campionati che vediamo la domenica e il sabato in televisione, le tre punte di diamante operano in Lega Pro, quindi sono impegnati settimanalmente in questi campionati. E poi abbiamo due colleghi del calcio a 5 che operano a livello nazionale in serie B. Il primo anno che si fa il raduno qui a Polla pre-campionato, perché l'altro anno abbiamo fatto sempre lì a Sala Consilina, facendo parte del consiglio direttivo della sezione di utilizzare questo campo. E poi terremo, come diceva Giambiero, la riunione tecnica nei locali della protezione civile di Polla. Anzi, io colgo anche l'occasione di ringraziare l'amministrazione comunale. E poi ci sta anche, ringraziamo i responsabili, Angelo Caso, per aver messo subito a disposizione la nostra sede con la Sala Riunioni, dove terremo poi la seconda parte, di cui io sono in doppia veste, consigliere da una parte come arbitro, insomma componente della protezione civile, nonché come padrone di casa, insomma faccio l'onore di casa, Polla Ese, e perciò anche per me è una soddisfazione, un piacere mettere a disposizione anche queste belle impianti, che il nostro custode veramente ci ha fatto trovare in perfette condizioni stamattina. Insieme a loro anche alcuni nuovi arrivi, che a breve saranno chiamati a dare il via ufficiale alla loro preparazione. Le iscrizioni sono aperte e tutti, maschi e femmine di da compresa tra i 15 e i 35 anni, potranno intraprendere l'attività qualora interessati. Noi abbiamo diversi colleghi che militano in categorie pure importanti a livello regionale, che magari non hanno mai visto una gara di calcio, quindi la passione per il calcio è un discorso, la passione per l'arbitraggio è qualcosa di un po' più impegnativo e diverso. Quindi l'importante è che si parte con questi presupposti. Poi a noi interessa, tra virgolette, arruolare nei nostri organici ragazzi che abbiano voglia di maturare un'esperienza diversa, quindi noi lo chiamiamo un altro modo di fare sport. Per iscriversi basta contattarci telefonicamente per e-mail in merito alle nuove iscrizioni del corso nazionale arbitri, quindi è possibile iscriversi a partire dai 15 anni compiuti fino ai 35 anni. E' ovvio che prima si inizia, prima più possibilità si hanno di calcare campi importanti, in categorie altrettanto importanti. E adesso il calcio giocato. Ieri il campionato di eccellenza a Girone B ha disputato la terza giornata. Il Valdiano ha perso in trasferta in casa dell'Ebolitana, prossimo avversario mercoledì nel match infrasettimanale di Coppa, mentre in testa alla classifica resta l'FC Sorrento dell'ex Granata Scarpa. Terza giornata del campionato di eccellenza a Girone B senza grosse sorprese. Con ordine l'FC Sorrento si dimostra sempre più una corazzata per vincere il torneo. Lo testimonia la netta vittoria interna contro il Sant'Antonio Abate per 4-0 con assegno ancora una volta all'ex Salernitana Scarpa che insieme a Licciardi del Montesarchio, vincitore in casa per 2-0 contro il Sant'Ommaso, e caro tenuto del Cittadino Cera, autore di una tripletta nel 6-0 dei Molossi contro il Sorrento Calcio, guida la classifica marcatori. Ad inseguire la squadra di Mister Turici è al momento il terzetto composto da Cittadino Cera, US Scafatese ed Ebolitana. L'US Scafatese batte con un gol di Del Grande la Scafatese Calcio nel derby di Scafati, mentre è decisivo il gol di Salese su calcio di rigore all'Ebolitana per battere di misura il Valdiano davanti al proprio pubblico. Seconda gara in trasferta e seconda sconfitta per il Braugrana di Mister Masullo che insieme al Massa Lubrense, sconfitto 2-1 in casa dal Cassel San Giorgio, resta la seconda peggiore difesa del torneo con 8 gol subiti dopo 270 minuti. Termina a reti bianche invece la sfida del Sunday Morning tra San Vito Positano e Mariglianese mentre la Panolmese ottiene, dopo aver impattato contro il Cittadino Cera sette giorni fa, un importante successo interno contro il Faiano. Il finale è 3-1 per la squadra di Soviero grazie ai gol di Bove, Auffiero e Limatola mentre al Faiano non basta il gol dell'ex Valdiano Di Giacomo. Ora gran parte delle squadre in campo ieri saranno attese dal turno di Coppa Italia in programma mercoledì pomeriggio. Il Valdiano dal secondo confronto consecutivo con l'Ebolitana, questa volta si giocherà al Vertucci di Teggiano la gara di andata mentre il prossimo 14 ottobre ci sarà il ritorno. E' in attesa di capire quale sarà il futuro tecnico del Sassano, ieri la squadra del presidente Ricciardone ha pareggiato al Morra di Vallo della Lucania contro il Cannalonga e intanto in testa sono due le squadre a punteggio pieno, il Santa Maria e il Salerno. Si è conclusa con i due posticipi di ieri pomeriggio la terza giornata del campionato di promozione girone di Campano. In campo Salernum Olympic Salerno e Cannalonga Sassano. Il Salernum di Mistel Galderisi vince di misura grazie al gol di Paciello e resta a punteggio pieno dopo tre gare rispondendo alla polisportiva Santa Maria che sabato pomeriggio con lo stesso punteggio 1-0 gol di Rizzo aveva liquidato la pratica reale a Versana e ottenuto i tre punti. L'altro posticipo domenicale vedeva in campo il Sassano del presidente Ricciardone. I valdianesi passano in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Vizzuso che realizza il suo primo centro in campionato per i suoi. Ad inizio ripresa però il Cannalonga raggiunge il pari con Maiese. Sulla panchina del Sassano c'era Giovanni Cammarano e secondo alcune indiscrezioni in settimana si decideranno le sorti della nuova guida tecnica. Ad inseguire le prime due Salernum e Santa Maria resta Ile Picciola che viene bloccato dalle pari sul campo del Poseidon che ha iniziato con piglio diverso questa stagione e rischia di diventare la mina vagante del girone. Il Calpazio di Mister Voza e il Pandola piazzano entrambe un'importante vittoria esterna rispettivamente sul campo del Buccino Vocei e del Costa da Marfi portando a sei i punti in classifica. Tanti quanti la temeraria che viene sconfitta a domicilio dalla neopromossa Vigor Castellabate. Infine termina in parità la sfida tra Real Pontecagnano e Giffonese con un botta e risposta firmato Mazzeo ed Elia per due squadre che dopo il ridimensionamento di quest'estate rischiano di fare da comparsa in questo torneo. Infine Calpazio e Pandola che si sfideranno sono le uniche due squadre che saranno impegnate mercoledì nel secondo turno di Coppa Italia. Con lo sport si chiude l'edizione pomeridiana delle Uno News io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti i nostri spettatori e vi auguro un buon proseguimento di giornata.